liberi dentro eduradio e tv un ponte tra carcere e città martedì 18 giugno ben trovate e ben trovati a liberi dentro eduradio tv la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con una mezz'ora d'aria una mezz'ora di chiacchierate di riflessioni e di informazioni con alessandro oggi infatti affrontiamo un argomento importante perché per fortuna questa pratica è diffusa in molte carceri e andrebbe rinforzata parliamo dello sport che non è soltanto lo sport da guardare seduti sulla voltrona ma è anche quello attivo da fare nello spazio che si ha a disposizione e noi sappiamo che in carcere molte persone per fortuna si dedicano all'allenamento ma ti lascio subito la parola alessandro così ci dici qualcosa in merito a un po di soldini che sono stati stanziati al terzo settore ciao antonelle ciao a tutte e tutti è una bella notizia quella che arriva dal ministero dello sport e per i giovani perché ha intenzione di stanziare all'incirca un milione e mezzo di euro per favorire il ricorso allo sport soprattutto in ambienti appunto come il carcere sono pronti questi soldi che verranno destinati per un concorso a cui possono accedere in questi giorni stanno già accedendo tante realtà del terzo settore parliamo di associazioni parliamo di scuole calcio insomma tutta questa serie di enti che possono richiedere un finanziamento finanziamento che servirà a appunto provvedere i fondi per un percorso di sport che sia può essere sia un percorso ad esempio all'interno di una squadra dilettantistica ma può anche essere a discrezione dell'ente un percorso di formazione quindi con anche una possibilità di rilascio di un certificato a seguito del quale poterlo spendere per un'attività lavorativa verso chi sono rivolte queste attività insomma chi potrà accedere alle attività previste dalle associazioni o dalle scuole calcio vediamolo insieme innanzitutto sono rivolte a detenuti adulti all'interno degli istituti penitenziari inoltre possono essere rivolte anche a giovani dietro compresa tra i 14 e 24 anni che si trovano in custodia cautelare o in corso di espiazione di pena detentiva presso gli ipm nonché anche i giovani sempre tra i 14 e 24 anni che sono in carico ai servizi sociali quindi il progetto alla fine di tutto dovrà garantire lo svolgimento di attività sportiva gratuita per almeno due ore a settimana e per tutta l'intera durata del progetto che dovrà avere almeno 18 mesi infine e qui concludo deve essere presente un piano di allenamento strutturato per i benefici del progetto questo per garantire ai beneficiari che l'interesse e soprattutto i vantaggi psicofisici derivanti al progetto siano duraturi ma adesso ti lascio la parola perché ci presenti qualcosa che abbiamo già visto ieri in merito ad un festival di che cosa si tratta alessandro si antonella è il festival della giustizia penale che si è svolto nel corso del mese di maggio tra i comuni di modena di sassuolo e di pavullo questo festival ha come oggetto come argomento macro quello dell'impresa del lavoro e dell'economia ieri abbiamo sentito il professore francesco centonze ordinario di diritto penale dell'università cattolica del sacro cuore spiegarci come qual è il legame tra le norme del diritto penale e il pnr quest'oggi continuiamo ad ascoltare il professore centonze ci vuole molto impegno molto sforzo anche creativo di immaginazione per immaginare soluzioni diverse dobbiamo immaginare soluzioni diverse tutte le volte che dobbiamo risolvere un problema ora quale diritto penale è chiaro che il tema è immenso ho sei minuti credo e quindi quale diritto penale per risolvere questi problemi non posso affrontarlo in sei minuti ma insomma è il diritto penale delle persone fisico il diritto penale delle persone giuridiche è il diritto penale della pena carceraria o delle sanzioni interdittive e il diritto premiale della sanzione o il diritto premiale della o il diritto penale della premialità ecco queste sono diciamo le grandi questioni ora esempi di legislazione recente la disciplina fiscale il nuovo articolo 23 del decreto legislativo 34 del 2023 molto criticato è una norma che stabilisce una causa di non punibilità per taluni reati fiscali diciamo minori o messi versamenti essenzialmente per il contribuente che paga il tributo le sanzioni gli interessi e la non punibilità interviene se segue queste procedure finalizzate all'estinzione del debito verso il fisco prima della sentenza pronunciata dal secondo grado d'appello giusto io sono d'accordo la norma è stata criticata ma io sono d'accordissimo perché questa logica pragmatica strumentale deve entrare nella nostra legislazione non sarà giusto rispetto a chi ha pagato le tasse per tempo siamo d'accordo ma chi le paga entro la sentenza entro il secondo grado paga le sanzioni paga gli interessi si è fatto due anni di processo penale quindi diciamo la sua sanzione il suo carico di afflittività se siamo affezionati a questo concetto l'ha già ricevuto stessa cosa le il decreto legge sulle impianti di interesse strategico nazionale questa norma stabilisco una diciamo che l'adozione di sistemi di compliance impediscono l'applicazione di sanzioni interdittive a impianti di interesse strategico nazionale di nuovo dico sono d'accordo sono assolutamente d'accordo perché vi sono state e vi sono troppe situazioni nelle quali il procedimento penale per i suoi anni e per diciamo per i suoi tempi e per le sue modalità ha provocato danni che non ci possiamo permettere allora diamo la possibilità all'impresa coinvolta anche in particolar modo se sono impianti di interesse strategico nazionale di adottare tutte le misure che possono impedire l'applicazione di sanzioni interdittive che non vuol dire impedire l'applicazione del diritto penale vuol dire far continuare a lavorare quell'impresa che ha eh eh particolari esigenze produttive e di direi tutela anche eh eh della volo salvaguardia dell'occupazione ci sarebbero molte altre cose da dire su questo e in particolare di nuovo la cosiddetta restorative compliance rispetto agli appalti al nuovo codice degli appalti altra normativa che condivido perché precludere la eh eh l'accesso alla gara pubblica dell'impresa che dopo aver fatto un errore ha rigenerato la sua struttura e la sua organizzazione è chiaro che il diritto penale anche nelle sue diciamo applicazioni nelle sue forme tradizionali eh rischia seriamente di rappresentare un freno ingiustificato agli investimenti io ho la fortuna di fare la professione e di assistere eh imprese mh che investono in Italia tante imprese che investono in Italia che reputano inaccettabili procedimenti penali che durano sette o otto anni reputano inaccettabili eh eh l'intervento del diritto penale in situazioni che sono exante imprevedibili cioè in cui non c'è una direttiva chiara di comportamento pensiamo al nostro diritto penale tributario dove exante la le scelte che l'imprenditore può fare sono diversissime quindi tempi e qualità e diciamo dell'accertamento sono un problema cruciale ieri un giornale dava conto del fatto che a Brindisi si aspetta si aspetta da trenta mesi un giudice per fare il processo della TAP a Mantua qualche giorno fa in un processo penale eh su un inquinamento che in tesi di accusa sarebbe devastante è stato rinviato a un anno e mezzo quindi abbiamo dovuto fare gli auguri di buon Natale al presidente eh di quel collegio che ha rinviato un anno e mezzo questo è inaccettabile ora tutto questo non deve farci dimenticare credo io che ogni misura di sviluppo economico tutto ciò che noi ci stiamo dicendo in queste giornate eh di promozione di di scusate di sviluppo economico di ripresa eh di investimenti non ci deve far credo dimenticare una cosa che alla fine l'esito del nostro ragionamento è sempre quello di una promozione dei diritti e delle delle libertà individuali cioè voglio dire tutte le misure economiche di cui noi stiamo discutendo non sono fini a se stesse sono in rapporto alla promozione di libertà individuali c'è un bellissimo discorso di Piero Calamandrei sull'articolo 3 della nostra Costituzione la chiave è l'articolo 3 della nostra Costituzione Calamandrei diceva è una norma che mira una trasformazione di questa società perché anche quando ci sono libertà giuridiche queste libertà giuridiche sono inutili in presenza di una disuguaglianza di in presenza di disuguaglianze economiche dell'impossibilità della persona di sviluppare le proprie prerogative nella società e chiudo su questo tema quindi ricordiamo che sempre sono come dire abbiamo uno sguardo ulteriore rispetto a quello dello sviluppo economico e chiudo con una citazione nel Nobel Amartya Sen il cui titolo del libro non a caso di una ventiata anni fa è lo sviluppo è libertà l'utilità della ricchezza sta nelle cose che ci permette di fare nelle libertà sostanziali che ci aiuta a conseguire grazie e rieccoci e rieccoci direttamente per passare ad un'intervista una bella intervista realizzata da Alessandro Masella a Daria Bignardi ve la rimandiamo perché Daria sta presentando il suo libro ogni prigione un'isola è un libro denso intenso e pieno della sua esperienza non soltanto di volontaria carceraria ma anche proprio di persona con tutto diciamo il suo vissuto quindi ve lo riproponiamo proprio per fare il focus su questo argomento anche con una voce diversa dalla nostra che il carcere lo conosce bene inizio da una sua frase è vero ciò che ho detto al dottor C in prigione c'è la vita come fatta di dolore di ingiustizia povertà amore malattia morte amicizia rimpianto di una felicità e desiderio di libertà può essere questa serie di parole una buona sintesi del titolo ovvero ogni prigione è un isola titolo che poi le ha suggerito un agente penitenziario se non sbaglio allora lui intanto saluto tutti quelli che ci ascoltano e questo ispettore col quale stavo parlando in realtà ha usato quel termine per dire che ogni istituto è diverso dall'altro perché come sanno le persone detenute ma anche le persone che lavorano in carcere il clima di ogni istituto dipende soprattutto dal direttore e dal rapporto che il direttore o la direttrice hanno col comandante o con la persona col comandante degli agenti insomma e questo questa relazione e il direttore danno il clima all'istituto io in realtà ho rubato questa frase perché conteneva tante delle cose che io sentivo di di voler raccontare attorno a quello che io ho visto e sentito in questi tanti anni che comunque frequento le carceri e che sono cose molto personali questo non è un libro giornalistico non è un saggio è un è proprio un mio racconto dove ho cercato anche di ragionare su tanti temi come quello dell'isolamento della del sentimento che anche provano le persone da fuori che vanno in carcere io ecco non posso sapere nonostante faccia molte domande cosa esattamente provano quelli di dentro per quelli di fuori che li vanno a magari a conoscere incontrare che lavorano con loro per loro e so però cosa proviamo noi che sempre in qualche modo anche un senso di gratitudine io non so quando nonostante tutti i problemi che sappiamo nonostante il dolore col quale abbiamo a che fare in carcere nonostante come sappiamo siano posti veramente brutti c'è poco da fare sono molto brutti e vorrei che vorremmo che non esistessero però è vero che si ritrovano dei valori e un'umanità tra le persone che si conoscono nelle carceri che insomma che danno sempre molto di più di quanto uno poi riesce a restituire almeno per me è stato così allora le faccio proprio una domanda personale ovvero dal dalle faggine il suo libro sembra quasi che sia stato più il carcere a scegliere lei invece che il contrario si rivede in questa frase e soprattutto ricollegandosi a quello che lei ha appena detto qual è il sentimento che prova quando parla del carcere? guarda esattamente come dici tu anche se non ci avevo mai pensato in maniera così chiara è come se mi avessi scelto e come racconto da sempre perché io appunto ho cominciato ad avere familiarità con l'idea di carcere da quando ero bambina a Ferrara andavo tutti i pomeriggi da un'amica che abitava di fianco al carcere di via Piangipane che adesso non è più in via Piangipane ma insomma e il maestro ci diceva nel nostro carcere è stato rinchiuso Giorgio Bassani io che ero una bambina però sapevo già che Giorgio Bassani era il più grande scrittore ferrarese mi diceva ma come mai uno scrittore così importante così bravo sarà stato in carcere poi ho capito mi hanno spiegato che era un antifascista e che era in carcere per per questi motivi e poi tante altre esperienze piccole grandi poi mi sono ritrovata a lavorarci ad andarci spesso ad entrarci per tanti progetti piccoli grandi che ho seguito in tante carceri soprattutto nel carcere di San Vittore dove tra l'altro al quale tra l'altro io abito accanto da ormai più di vent'anni quindi come dici tu in effetti è proprio come se avesse deciso lui poi mi è anche capitato un incontro devo dire bellissimo importantissimo con il mio ex suocero Adriano Soffri che è anche mio carissimo grande amico oltre che il nonno dei miei figli e quindi ho fatto anche l'esperienza di parente di detenuto questo già molti anni dopo che andavo in carcere da diciamo così volontaria però l'esperienza del parlatorio non l'avevo mai fatta prima e anche quella è un'esperienza particolare quindi sì per tanti motivi adesso mi manca solo l'esperienza della detenuta che spero di non fare ma chissà come sappiamo in carcere può finire chiunque e quindi chissà se farò anche quella ecco proprio in relazione alla corrispondenza con Adriano Soffri diciamo che lei nel suo libro fa emergere la sua visione sulla criminalità ovvero che la criminalità più che una scelta consapevole è un risultante delle condizioni sociali culturali di una persona quindi dal contesto invece da contraltare fa la voce di Adriano che possiamo racchiudere nella frase del Vangelo secondo Giovanni ovvero gli uomini scelsero piuttosto le tenebre che la luce allora questa frase che ha citato Adriano la citava perché comunque nella sua grande rigore nella sua grande dignità lui ci tiene a rivendicare il libero arbitrio di ogni persona comprese le persone detenute quindi il tema della responsabilità e della scelta probabilmente più di quanto possa fare io che ne ho una visione naturalmente da esterna poi io credo che siano vere entrambe le cose anzi tutte e tre le cose ovvero che l'uomo che può scegliere tra luce e tenebre scegliere le tenebre anche perché sono più interessanti a volte no questo lo dico in senso lato non sto parlando del crimine però sappiamo tutti che il male può avere un'attrazione soprattutto quando siamo giovani no perché ci insegna delle cose ci comunica delle cose della vita che magari il ribene non riesce a comunicare quindi fa parte anche di una formazione esistenziale delle persone diciamo che io mi limito a constatare che vedo e ho visto e so di persone detenute che avevano magari famiglie che a loro volta erano famiglie criminali o famiglie in difficoltà o che magari non hanno avuto o un'attenzione o un'istruzione o una sicurezza economica cioè in generale ho conosciuto molte persone che venivano da situazioni certamente non protette cioè è più difficile in carcere trovare persone benestanti istruite che hanno avuto infanze protette poi naturalmente ci sono anche quelle ma come tutti sanno sono una minoranza ecco parlando di situazioni poco tutelate all'interno del carcere lei ha affrontato il tema della detenzione femminile e giustamente lo ha fatto sottolineando come il carcere sia una struttura pensata per gli uomini simbolo una frase che le ha detto una detenuta ovvero beh ma anche la società esterna in realtà è pensata solo per gli uomini ecco le chiedo facciamo sapere un po' quali sono i bisogni che hanno le donne quelli specifici nella detenzione e cosa si può fare per migliorare questa condizione? quella femminile è proprio una situazione particolarmente disgraziata cioè lo è per tutte le persone ristrette ma mi sembra che per le donne sia ancora più crudele per tanti motivi che sono sia culturali che sociali che anche biologici perché per le madri ad esempio è ancora più crudele la separazione dai figli cioè ho visto tante donne veramente disperate nell'essere tenute lontane dai propri figli in più come si sa è più facile che un uomo abbia fuori una persona che si prende cura di lui che può essere una madre, una sorella, una fidanzata, una moglie, una compagna di quanto una donna può avere un compagno che si prende cura di lei come dice quella detenuta a cui ho dato voce la società è così anche fuori, cioè da ogni punto di vista è pensata ma anche dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista della salute, da tutti i punti di vista è pensata al maschile e figuriamoci le carceri che sono un'istituzione squisitamente maschile e figuriamoci appunto se si pone i problemi del femminile che sono problemi di ogni genere da quelli appunto della genitorialità ma anche a quelli più banali della vita quotidiana nel carcere ecco sempre rimanendo parlando tra virgolette di donne che non hanno avuto la fortuna di essere tutelate dalla società c'è Pina, la bidella che non ha potuto studiare e dice una frase simbolo ovvero mi chiedo quanti di noi convivano con paure infondate alle quali magari inconsciamente poi si affezionano ecco queste paure come quella di Pina quali possono essere e soprattutto come è possibile farvi fronte se è possibile questo è più un tema da psicologi però ho fatto anche delle riflessioni su quante sono le cose che ci imprigionano poi non c'è detenzione peggiore che quella fisica però è anche vero che ci sono delle situazioni nelle quali possiamo provare a immedesimarci nelle condizioni di chi deve vivere isolato e che a volte ci sono anche delle prigioni psicologiche che appunto hanno a che fare con le paure che abbiamo o con le dipendenze che abbiamo, dipendenze che non sono solo dipendenze da eventualmente droghe ma anche da persone, da situazioni tossiche, da eventuali fanatismi o dogmi insomma sono tante le situazioni che possono somigliare a una detenzione le chiedo una parola, un pensiero sul ruolo degli agenti penitenziari che nel suo libro viene tracciato io credo molto bene l'ambivalenza delle possibilità ovvero ci sono agenti che sono sostanzialmente importantissimi per la macchina amministrativa e penitenziaria e salvano vite e diventano anche psicologi, compagni in certe situazioni e altre volte invece agenti che invece fanno tutto l'opposto e quindi si lasciano andare a impulsi di aggressività di difficoltà, cosa possiamo dire? Mi sembra veramente un lavoro delicatissimo, durissimo e molto difficile per il quale servirebbe se non una vocazione che sarebbe la cosa migliore come tutta una serie di lavori delicatissimi, importanti come il lavoro dell'insegnante ma anche quello dell'agente di polizia penitenziaria però se non si può pretendere la vocazione sarebbe bello poter offrire a chi fa questo lavoro così duro almeno una formazione oltre che uno stipendio più che dignitoso e davvero una formazione sia dal punto di vista criminologico ma anche psicologico questo me l'hanno spiegato ancora prima i detenuti che gli agenti con i quali ho parlato di quanto sia un ruolo importante, di quanto possa fare la differenza di quanto una parola detta o non detta da un agente possa veramente salvare una vita di quanto gli agenti facciano un lavoro veramente stressante, faticoso in un ambiente che comunque è un ambiente violento per sua struttura quindi credo che inoltre ecco se ci sono pregiudizi nei confronti dei detenuti ce ne sono moltissime anche nei confronti degli agenti quindi oltretutto con poco riconoscimento da parte della società quindi credo che veramente lo Stato si dovrebbe porre il problema di sostenere nel modo migliore le persone che fanno questo lavoro Le chiedo allora un saluto per coloro che ci hanno ascoltati e un saluto per le persone insomma ristrette in Emilia Romagna Un grandissimo saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando che ci hanno ascoltati spero di non avermi annoiato con le mie riflessioni che immagino che per voi siano banali e scontate però sappiate che sono fatte di cuore e con molto rispetto per l'esperienza delle persone che sono ristrette e per le persone che lavorano in cacera in tutti i ruoli quelli degli agenti, quelli degli educatori, degli psicologi, dei criminologi, dei medici quindi ecco un grande rispetto, grande gratitudine per chi fa questo lavoro e grande solidarietà per tutte le persone che vivono in carcere e purtroppo siamo arrivati ai saluti finali vi ricordiamo che potete scrivere a redazione liberi dentro chiocciolagmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi via del Tuscolano 99 vi ricordiamo anche che ci vedete domani di nuovo su queste reti e che potete sicuramente seguirci tutti i giorni su Igaro TV e su Radio Città Fugico un saluto da me che sono Antonella, da Alessandro Enea, Maria Cristina e da Sofia e ci vediamo domani Grazie a tutti